E io a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Oggi non sto portando un gameplay, né tantomeno una challenge, né tantomeno chissà che cosa Oggi ho deciso di portare un video che spiega un po' quello che è successo in questi giorni nel canale Avete visto un cambiamento drastico, tra virgolette, perché comunque è stato drastico, sì Avete visto il cambiamento di nome, avete visto il cambiamento di grafica, avete visto il cambiamento di immagine di copertina Avete visto un po' tutto E ho deciso di spiegarvi un po' quello che è successo Chi ci segue dall'inizio, non siamo assai, siamo in 100 più o meno Però chi ci segue fin dall'inizio sa che questo canale è iniziato con me e mio fratello, la mia compagna e mia sorella La mia compagna e la mia sorella poi hanno deciso di uscire dal canale perché comunque non c'entravano molto con il canale E quindi abbiamo deciso di continuare io e lui Solo che poi con il passare del tempo comunque ognuno poi ha punti di vista differenti Quindi automaticamente si sceglie di fare un determinato video anziché un altro E quindi automaticamente non si va in contrasto tra i modi di pensare Quindi abbiamo deciso di restare, cioè io resto qui nel canale e lui ritorna ad usare il vecchio canale che aveva Ovvero che I am Abbiamo deciso di fare così perché comunque abbiamo punti di vista differenti A me piace fare un certo tipo di video, a lui poi piace fare altri tipi di video Quindi automaticamente non aveva senso portare avanti questa cosa e non aveva senso continuare così Anche perché non mi sembra corretto anche tra fratelli Cioè cercare di essere forzati su una cosa che non piace Questo non vuol dire che non faremo collaborazioni perché comunque ci saranno le collaborazioni fra di noi Anzi suppongo che ci saranno anche delle forse live sì ma anche collaborazioni nel senso di challenge Video di videogiochi, Minecraft non so vedremo Più avanti vedremo però per il momento è così Volevo anche parlarvi del fatto del canale che ci sarà probabilmente una leggera frenata A livello di pubblicazioni perché comunque la mia vita privata sto cercando di non farla combaciare col canale Quindi automaticamente dato che probabilmente alcuni già lo sanno Non essendo in Italia Tornerò in Italia a breve quindi automaticamente dovrò rallentare la produzione dei video Cercherò di portare più video possibili in questi giorni per comunque occupare questa mancanza Però pazienza Questo era il mio breve messaggio da dirvi Spero che comunque continuate a seguire i video, continuate a seguire il canale E ci vediamo alla prossima Ciao